Musica Arezzo ha festeggiato la Repubblica anche in musica con il grande concerto sinfonico della Fondazione Guido d'Arezzo insieme al Comune e alla Prefettura Al Teatro Petrarca il pianoforte di Antonio Di Cristofano l'orchestra Città di Grosseto diretta da Andrea Colombini per un trascinante programma che ha previsto l'esecuzione di due opere di Mozart Musica Qui ad Arezzo per me è un grande onore essere al Teatro Petrarca e festeggiare con Arezzo la festa della Repubblica Italiana qui il 2 di giugno Tutto il programma è dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e qualcuno potrebbe dire che con l'Italia ci incastra poco in realtà Mozart è vissuto molto nel nostro paese parlava correntemente italiano e lo ricordo ha scritto tutti i suoi più grandi capolavori utilizzando la nostra lingua quindi come dico sempre io è il più grande autore di lingua italiana che sia mai esistito dunque tutto il programma è dedicato alla sua musica 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 Musica